che siedono nel Parlamento. È altrettanto però importante che questo dibattito si sviluppi con chiarezza, senza falsità. Ecco perché mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte. Come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo Governo non lavora col favore delle tenebre. Questo Governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Se ha qualche proposta da portare, la porta chiaramente guardando negli occhi tutti gli italiani. L'Eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo. È una menzogna questa. Secondo, su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato quindi a questa proposta, che non è ancora completata, ma è sul tavolo, di una linea di credito collegata a questo strumento che già esiste, MES, totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate. Terzo, e ad essere ancora più chiari, l'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES. Non ha bisogno del MES. L'ho già dichiarato, l'ho detto più volte. Perché non ha bisogno del MES? Perché l'Italia ritiene il MES uno strumento totalmente inadeguato, totalmente inadatto rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. Quindi, sin dall'inizio, lo ricordo, nel Presidente dell'ultimo Consiglio europeo, io l'ho chiarito a tutti i leader, i miei omologhi. L'Italia non ha bisogno del MES, l'Italia non ritiene il MES adeguato a questa emergenza. Fermo restando che se ci sono degli Stati, come è avvenuto, perché noi stiamo lavorando anche in una sinergia con altri Stati, con altri otto Stati alleati in questa battaglia, se ne sono aggiunti anche altri, alcuni di questi Stati vogliono una nuova linea di credito collegata al MES, la vogliono senza le vecchie condizionalità, quindi con nuova regolamentazione. Ecco perché l'Italia partecipa a questa discussione che è sul tavolo. Attenzione, è per questo però che noi ci stiamo battendo, per avere questo ventaglio di nuovi strumenti innovativi e in particolare lavoreremo fino alla fine con coraggio, con determinazione in questa battaglia difficile, che era impensabile all'inizio. Però attenzione, ieri è successo qualcosa di nuovo. C'è un intero paragrafo che è destinato ad accogliere la nostra prospettiva degli Eurobond. È molto importante perché stiamo parlando di strumenti finanziari di condivisione delle spese, strumenti finanziari di condivisione degli investimenti. Non abbiamo ancora una regolamentazione concreta, stiamo parlando di affermazioni di principio. Dobbiamo ancora lavorare in questa direzione, dobbiamo ancora costruire questo strumento, ma per la prima volta l'abbiamo messo nero su bianco e anche gli altri Paesi hanno dovuto convenire, hanno dovuto accettare non di esplorare per il futuro, come si era detto in una versione precedente, ma di lavorare adesso già per introdurre questo nuovo strumento. Quello che noi vogliamo è che questo strumento non solo si lavori adesso, ma sia immediatamente applicabile, attuabile e lotteremo fino alla fine per avere questo. Ma abbiamo bisogno dell'aiuto voi, di tutti i cittadini italiani. Ed è per questo che dico, le falsità, le menzogne ci fanno male, perché ci indeboliscono nella trattativa. Noi adesso avevamo chiesto all'opposizione di essere accumulati in questo senso di responsabilità. Quello che è successo stanotte, nelle scorse ore, quelle falsità che vengono dette rischiano di indebolire non il Premier Giuseppe Conte, non il Governo, ma l'intera Italia, perché vi assicuro che è un negoziato difficilissimo, perché se lasciavano all'Italia scrivere questo accordo sarebbe stato già scritto. Ci sono altri 26 Paesi, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo parlare a loro, anche al popolo tedesco, al popolo ulandese, dobbiamo far capire qual è il nostro progetto, dobbiamo esprimere la nostra dignità, la forza del nostro coraggio, della nostra lungimiranza, della nostra determinazione. Se qui questo dibattito continua in questi termini, rischiamo di compromettere la nostra forza negoziale. Lo voglio dire chiaramente. La mia posizione al Consiglio sarà chiara. La risposta europea la valuto nel suo complesso, quindi lotteremo per avere gli eurobond e spiegherò con forza al prossimo Consiglio europeo, ancora una volta, che è uno strumento il MES totalmente inadeguato, insufficiente per l'emergenza che stiamo vivendo. La risposta comune o è ambiziosa o non è. Non abbiamo alternative. Se fosse stata una crisi come nel 2008-2009, potevamo ragionare di altri strumenti. Avremmo potuto stare lì a sofisticheggiare. Mi piace questo, mi piace quello. Ma oggi dobbiamo inventarci due nuovi strumenti. E da questo punto di vista io non firmerò sino a quando non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo. È una sfida, vedete, che non riguarda solo noi che siamo cittadini italiani, non riguarda solo l'Italia, riguarda l'Europa e quindi tutti gli Stati membri. E io sono convinto che alla nostra tenacia, con la forza della ragione, riusciremo alla fine a convincere tutti che questo è l'unico percorso che si offre per consentire all'Europa di ripartire con forza, di alzare le reni e di competere sui mercati globali. Grazie.